Pubblicato il bando di concorso per titoli d'esami per la missione di 66 allievi ufficiali presso l'Accademia della Guardia di Finanza. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta serie speciale numero 19 del 9 marzo, è stato pubblicato il concorso pubblico per titoli d'esami per la missione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale, comparto ordinario e aeronovale all'Accademia della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2021-2022. I posti disponibili sono così ripartiti, 58 destinati al comparto ordinario, 8 destinati al comparto aeronovale, suddivisi come segue, 4 riservati alla specializzazione pilota militare, 4 riservati alla specializzazione comandante di stazione unità navale. La presentazione delle domande potrà riguardare uno solo dei predetti comparto e specializzazione. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano alla data del 1 gennaio 2021 compiuto il 17esimo anno di età e non superato il giorno del compimento del 22esimo anno di età. Vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 1 gennaio 2004, estremi inclusi, siano in possesso di un diploma di istituzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione a corse di laurea previste dalle università statali o legalmente riconosciute, non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguono nell'anno scolastico 2020-2021. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata, la PEC, o ricorrere se i minorenni a quello in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potestà geniteriale o in mancanza al tutore dopo aver effettuato la registrazione al portale, potranno accedere tramite la propria area riservata al form di compilazione della domanda di partecipazione. Sul predetto sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando. Inoltre, sempre sulla casetta ufficiale della Repubblica numero 17, ma del 2 marzo 2021, quarta serie speciale, è stata pubblicata la procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanziari del contingente ordinario della Guardia di Finanza riservata al Conig e ai figli e superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle forze di polizia decedute o reso permanentemente invalido al servizio con invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa. Possono partecipare i cittadini italiani che alla scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, non abbiano superato il giorno di compimento del ventisesimo anno d'età e siano in possesso del diploma di istituzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.